Bene, benvenuti, vediamo come utilizzare il materiale che ho messo per la sezione 1A gioco salto piattaforma in cui faremo anche qui degli accenni, non è che facciamo il gioco completo però faremo vedere come si può costruire. Quindi nel materiale del Google Classroom vedrete che abbiamo uno zip con un bel po' di assets, che sono assets di dominio pubblico, cc0 che vengono sostanzialmente da questi indirizzi e poi abbiamo uno script che è pubblicato su GitHub e questo script vedrete che lo useremo, quindi faremo una copia e magari vediamo di commentarlo anche un momento quindi gli assets che sono appunto zip, una volta unzippati, li scaricherete in una cartella e li terrete a portata di mano dentro questi assets ci sono diverse cose, le cose che a noi interessano sono i GFX nei GFX ci sono i player e qui vedete che abbiamo il nostro coniglietto quindi adesso faremo, animeremo il coniglietto qui facciamo ad animarlo, quindi andiamo su un nostro Godot quindi qui facciamo, andiamo al project list e creiamo un nuovo progetto quindi io sto usando adesso Godot 3.1 e è molto simile a Godot 3.0 e sta uscendo adesso in questi giorni niente di particolare, per creare un nuovo progetto faremo New Project e qui mettiamo prova progetto e creiamo il folder dove ci interessa mettere il progetto create folder e poi facciamo create and edit e come sapete abbiamo un progetto vuoto qui l'unica piccola differenza se venite da Godot 3.0 è che le scene sono messe qui a sinistra invece di essere messe qui a destra, quindi abbiamo molto spazio per l'inspector che è la cosa che ci interessa veramente tanto quindi la prima cosa che faremo è di costruire un non una scena in modo particolare ma un nodo quindi creeremo un nodo di tipo Kinematic Kinematic Body 2D allora questo perché vogliamo costruire il nostro coniglietto quindi al di sotto di questo Kinematic Body 2D dovremmo dare la forma, cioè lo sprite, il disegno del nostro coniglietto e poi ci dobbiamo mettere anche la collision shape e poi lo script che abbiamo preparato prima quindi per farlo andiamo un po' per volta quindi qui innanzitutto dobbiamo dotarci dei disegnini che volevamo quindi prendiamo il disegno del coniglietto ma riprendiamoli anche tutti quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono 6 disegnini ce li mettiamo provvisoriamente qua ok ora per il momento lasciamo perdere questo abbiamo i disegnini e ci costruiamo uno sprite animato partendo dal coniglietto che sta in piedi o che sta insomma a due posizioni il coniglietto fermo e in leggero movimento quindi la cosa che dobbiamo fare è di entrare e chiedergli un sprite e vediamo il blu animated sprite animated sprite vedete che qui ci dice due errori uno nell'animated sprite e uno nel kinematic body allora tutti e due sono da risolvere prima di cercare di lanciarlo il primo ci dice che il kinematic object gli mangia una collision mesh e il secondo cioè collision come aspettate cosa dice shape mesh quando è 3D e poi il secondo invece ci dice che l'animated sprite non ha le frame di animazione quindi andiamo a risolvere prima la questione dell'animazione quindi l'animated sprite a sulla destra vedete che i frames che c'è sono vuoti quindi clicchiamo e carichiamo anzi creiamo uno new sprite frame e poi lo cliccando abbiamo la possibilità di aprire l'editor delle animazioni qui abbiamo una prima animazione che si chiama default e questa la vogliamo essere quella ferma prendiamo ready e stand questi due oggetti se vogliamo vederli meglio clicchiamo così e quindi vediamo che il read e lo stand sono 1 e 2 e li trasciniamo qua dentro vedete che noi abbiamo il nostro oggettino il nostro coniglietto che se gli diciamo di fare playing quindi mettiamo in playing vedete che lui è già animato quindi questa è la premessa per farlo animare l'altra cosina che manca è la collisione l'abbiamo visto e la collisione la sistemiamo subito beh intanto possiamo anche mettere questo oggettino in modo che sia un po' centrato così ce lo vediamo centrato e non in alto a sinistra e poi con la rotellina lo ingrandiamo e ci mettiamo una collision shape quindi collision shape 2D faccio notare che devono essere tutti blu questi e la collision shape l'abbiamo messa e quindi è sparito il nostro giallo qua su ma qui ci sta dicendo che manca una cosina cosa manca? manca la shape già abbiamo detto che c'è una shape 2D ma quale è questa shape non lo sappiamo quindi andiamo sulla destra la shape e ci mettiamo una capsule shape 2D ok allora la capsule shape 2D vedete che l'ha messa in alto a sinistra noi ce la trasciniamo la mettiamo più o meno sul nostro sul nostro coniglietto e poi andiamo a ingrandirla leggermente prendendo le manigliette ok prendiamo proprio e lo facciamo più o meno delle dimensioni del coniglio quindi in modo tale che rimanga appoggiato sul coniglio e poi ci giochiamo un po' insomma e cerchiamo di di farlo un po' più su un po' più giù ok facciamo in modo tale che la capsule arrivi almeno ai piedi e non vada oltre la testa non molto oltre la testa ecco allora facendo così il nostro coniglietto sta animandosi e tutto sommato c'ha c'ha la possibilità insomma di adesso non riuscirò mai a spostarlo millimetricamente di quello che mi interessa ok facciamo finta che vada bene così dobbiamo metterci per fargli fare qualcosa quindi muoversi cadere rispondere ai comandi dobbiamo mettere uno script lo script lo mettiamo a questo livello quindi a livello del kinematic gli aggiungiamo uno script nello script gli possiamo poi dare un nome quindi il nome il modo in cui lo chiama sarebbe questo c'è pat kinematic body 2d gd per il momento teniamolo buono così e poi andiamo nell'altro link che vi ho dato quello famoso e gli prendiamo questo facciamo row facciamo ctrl a ctrl c e poi andiamo nel nostro dove stavamo lavorando creiamo lo script ctrl a ctrl v e ci mettiamo il nostro script poi lo andremo anche a vedere meglio ctrl s lo salviamo e questo sarà kinematic e questo ci fa salvare la scena questa qua che avevamo creato all'inizio quindi salvando abbiamo che abbiamo fatto il nostro primo la nostra prima animazione in realtà vedrete che vedete che se guardiamo il programma lui usa anche un'animazione a destra e un'animazione a sinistra quindi running right quindi che fa animate sprite play vuole il running right il default e il salta allora in queste animazioni abbiamo solo messo il default andiamo nel nostro animated sprite e andiamo ad aggiungere la nuova animazione running right e nel running right ci mettiamo uno e due qua ok per vedere se l'animazione è giusta possiamo provarla qua mettendoci l'animazione qui c'è soltanto il default running right abbiamo salvato ctrl s vediamo se ce la fa vedere non ce la fa vedere ma probabilmente l'ha messa andiamo a metterci anche l'ultima animazione visto che ci siamo che è quella del più e gli mettiamo il salt salt l'animazione del salt è questa qua jump eccola qua quindi a questo punto proviamo a vedere se lo script che abbiamo aggiunto effettivamente fa ciò che ci interessa quindi andiamo qua in play vedete che cade e se premiamo salta vedete che c'è l'animazione di salta a sinistra e a destra e questo è in sintesi il nostro il nostro oggettino bright frame forse bisognerà ricaricarlo quindi no comunque c'è allora fatto questo il passaggio successivo è quello di fare una scena in cui questo in questo coniglietto si muove e per farlo dobbiamo fare un più qua e creiamo un'altra scena questa volta con un nodo nodo 2D e questo qui sarà un po' il livello di gioco e nel livello di gioco ci andiamo a mettere dentro GFX abbiamo environment e ci mettiamo ci prendiamo ancora il disegno di una piattaforma che ce lo trasciniamo magari vediamo un po' se riusciamo a prenderlo dice che non lo riesce a muovere ma niente non ci riesce un attimino ok chiudendo e riprendo il progetto sono riuscito a trascinare come volevo fare il nostro ground grass e a questo punto possiamo costruirci questa la nostra scena quindi facciamo una abbiamo quindi ricordate che abbiamo fatto la scena con il nostro Kinematic Body e leggiamo una scena e questa scena facciamo partire con un nodo 2D e lì dentro ci metteremo il nostro sprite quindi il nostro sprite esiste già quindi glielo linkiamo facciamo link Kinematic Body che è questo vedete che ce lo mette qua e poi in più ci aggiungiamo anche una piattaforma allora la piattaforma per noi sarà un dunque vediamo un po' facciamo più vediamo un body vediamo i nostri sarà uno static body uno static body perché è un corpo cioè i corpi in i body in Godot si distinguono in tre categorie i Kinematic che sono gli agenti insomma quelli i player o anche gli NPC insomma delle cose che agiscono di loro iniziativa più o meno i rigid body sono dei corpi che rispondono tipo il pallone la palla oggetti alle sollecitazioni dei Kinematic e gli static body invece sono le cose che stanno al contorno quindi noi mettiamo static body quindi creiamo static body vedete che gli manca gli manca il suo contenuto quindi il contenuto dello static body vedete che gli manca un po' di roba quindi noi per mettergli il contenuto dello static body direi che gli proviamo proviamo a vedere se riusciamo a mettergli il soundgrass qui dentro non ce lo lascia mettere quindi sarà un più diciamo un più e gli mettiamo un shape qui possiamo aggiungersi la collision shape se no qui sarà probabilmente uno sprite uno sprite ecco mettiamo uno sprite e nello sprite lo sprite ha una texture e la texture ci mettiamo la nostra ground grass tra l'altro probabilmente si può anche trascinare ground grass direttamente qua e così vedete che lui ci ha messo il ground grass che è appunto uno sprite quindi facciamo un attimino ctrl z ctrl z ground grass perfetto e poi il ground grass che è lo static body famoso quindi questo static body che è questo ground grass e dobbiamo ancora mettere manca la collision e la collision facciamo ok mettergliela quindi facciamo un più facciamo collision collision shape 2D per semplicità la collision shape 2D vedete che gli manca la forma e gli mettiamo una forma tipo un rettangolo ok quindi a questo punto la forma c'è però ce l'ha messa in alto quindi la trasciniamo la mettiamo sul nostro oggetto e poi usiamo questo per dargli la forma di collision desiderata quindi clicchiamo questa ampliamo questa e per esempio facciamo che questa sia più o meno le dimensioni di collisione allora una volta impostato questa cosa siamo già a un buon punto nel senso che possiamo far muovere questo questo coniglietto e lo possiamo fare semplicemente mandando in play la scena quindi questa scena che è il nodo 2D la mandiamo in play salviamo la scena questa node 2D possiamo anche dargli un nome opportuno scena salvata e vedete il coniglio a questo punto è qua quindi se facciamo tasto freccia destra lui va a destra se facciamo freccia sinistra va a sinistra a a e poi cade tanto questo è anche meglio di come l'avevo fatto prima quindi magari e se faccio freccia in su due saltelle quindi abbiamo destra cade perfetto quindi questo direi che è parecchio se non tutto per quanto riguarda diciamo la capacità di fare degli sprite 2D che si muovano poi magari faremo nei laboratori anche qualche esempio in cui faremo un gioco leggermente più complesso partendo dal coniglietto con la sua piattaforma che deve saltare su N piattaforme e magari raccogliere anche degli oggetti per questo video è tutto buonasera